buongiorno a tutti ragazzi eccoci qua di nuovo insieme per questo fantastico video video che devo riproporre perché purtroppo l'avevo pubblicato la scorsa domenica ma purtroppo no la scorsa domenica scusate sabato ma purtroppo un inconveniente tecnico non mi aveva registrato l'audio e quindi lo rifacciamo vi dicevo con orgoglio finalmente sono riuscito ad espare la missuri a non non ce la facevo più perché ho sfruttato tutte le bandierine che avevo ma volevo avere questa nave e giustamente alla fine l'ho ottenuta e soprattutto ci ho messo dentro un capitano speciale chi se non lui steve segal steven segal steven segal ne migliora le capacità come ben sapete però comunque sia mi sembrava giusto mettere la missuri al comando di steven segal perché ha visto trappola in alto trappola in alto mare sapete di cosa stiamo parlando allora chiaramente era un po che non gioco la classe a io però questa è la prima partita che ho giocato con la missuri però speriamo che riusciamo un po a a quagliare sostanzialmente come la differenza di questa nave rispetto all'aiua e che ha un radar il radar mi sembra ad ampiezza vabbè non riesco a vederlo adesso comunque è un radar a 9 km e 4 9 4 si è un radar a 9 4 perché mi ricordo che ce l'avevo segnato anche lì qua è un radar a 9 km e 4 sicuramente molto prestante e anche molto arrabbiato aspettate che ecco perfetto e quindi è sicuramente una nave molto molto interessante io mi ci sono trovato mi ci mi ci sono trovato molto bene ho già fatto qualche partita chiaramente ragazzi non date mai il fianco è una nave molto precisa io si bisogna anticipare un po il tiro come come le americane però è una nave molto precisa che dà le sue soddisfazioni in battaglia allora per adesso non vediamo nessuno la flotta si è divisa una parte è andata a nord e l'altra sta andando a sud vediamo vediamo che cosa ne viene fuori allora è una nave sicuramente con grande con grande capacità antiaeree non giocate alla 30 km ragazzi è una nave che voi dovete cercare di usarlo il vostro radar quindi state nel gruppo aiutate il gruppo soprattutto quando serve aiutate i dd sono cose importanti ragazzi vediamo se lo prendiamo il flaccio e lo abbiamo preso buono beh da questa distanza era un tiro abbastanza complicato ok come vi dicevo è una nave abbastanza precisa quindi la dispersione non sarà mai tanta chiaramente io la gioco con il modulo della dispersione del meno 11% che è molto importante allora vediamo se riusciamo a fare... allora provo a sparare in blind perché comunque sia la direzione dovrebbe essere più giusta vediamo se lo prendiamo sicuramente non lo prenderemo allora... e infatti non l'abbiamo messo ci sta no vi dicevo io la gioco con... su Steven Sigal ho soltanto 10 skill al momento e ho messo le più importanti adrenali rush ho messo quello per curare gli incendi 15% o meno e ho messo la... il concealment così venite spottati a un 12 km e qualcosa che per un tier 9 è tanta roba ragazzi abbiamo perso un DD no bueno allora vediamo... adesso rivediamo il Neptune vediamo se riusciamo no va dietro e niente a questo punto ce... ce la diamo contro la Missouri perché tanto non vediamo altro allora come vi dicevo non cercate di non dare mai il fianco con questa nave e cercate di supportare i vostri compagni sostanzialmente e noi abbiamo fatto quattro rimbalzi ragazzi quattro rimbalzi va bene va bene allora... la situazione non è buona perché non vediamo nulla e quindi non spariamo dovremmo avvicinarci un po' ma rischiamo di essere uno shottati dopo allora approfitto adesso di... do il fianco mi riposiziono meglio dato che non vengo spottato approfitto massima accelerazione e cerchiamo di posizionarci meglio sulla nave io gioco l'upgrade del propulsore perché preferisco avere una reattività maggiore tra frenata e ripartenza piuttosto che... piuttosto che avere un timone veloce io alla fine mi ci trovo bene anche così oh Neptune questo può essere un buon bersaglio se si apre un tantino si sta aprendo vediamo se riusciamo a fargli male ragazzi i colpi forse sono buoni eccola! è arrivata la cittadella ottimo allora vorrei spostarmi per non dare il fianco alle altre navi vedo sempre solo il Neptune a questo punto continuiamo ad attaccare il Neptune perché le altre navi comunque sono lontane preferisco dare il mio contributo con la corazzata ragazzi cercate di dare il vostro contributo contro i cruiser perché alla fine sprecare i colpi contro le altre corazzate è evitabile quindi cercate di di dare il vostro peso contro i cruiser quando è possibile chiaramente ad esempio qui c'è questa misura che ci dà il broadside così non possiamo non devastarla la devasteremo? punto interrogativo adesso vediamo allora il colpo è arrivato no adesso mi abbiamo fatto 6.000 danni cioè vabbè evidentemente i colpi non sono entrati dovevano l'RNG in questo caso non ci ha aiutato perché dava la misura gli dava un broadside perfetto vabbè allora a questo punto cerchiamo di fare male all'Algerì si sta riaprendo no il colpo non facile perché è in chiusura quindi il colpo non è detto che lo prendiamo come dovremmo vabbè proviamoci eh infatti un rimbalzo e una penetrazione vabbè ci può stare ragazzi comunque siamo pari loro sono un leggero vantaggio noi abbiamo perso una squadra cioè una corazzata un user un destroyer invece l'avversario ha perso due destroyer e una corazzata vabbè via vediamo colpi non semplici beh il colpo è buono ma noi abbiamo fatto niente vabbè penso che forse se la finisce la Carolina eh infatti brozza in piedi ci può stare ha fatto bene allora vediamo un po' se qui vediamo qualcosa ecco la Norca allora da un bel fianco la Norca vediamo un po' devo ancora prenderci le distanze bene eh con i tiri però forse questo potrebbe andar bene vediamo un po' colpo buono però non è entrato forse leggermente lungo forse o lei si è leggermente allargata vabbè ragazzi non abbiamo fatto il male che io speravo questa è una nave che tanca anche molto bene certo per tancare dovete stare di brua eh ragazzi se vi mettete di fianco vi fanno male però 47 niente non abbiamo fatto nulla abbiamo fatto mille cioè vabbè l'RNG oggi è così ultimamente l'RNG ragazzi non mi da soddisfazioni ultimamente però allora vediamo un po' allora sembrerebbe che si sta rispostando di là vediamo un po' questo neptun se riusciamo a baciarlo preso noi abbiamo fatto niente vabbè ecco la missuri sta dando è un po' non ci da un broadside pieno vediamo se riusciamo a farle male allora il polpo eh si sta vabbè è invirata ragazzi ho lanciato il colpo che era invirata e infatti penso che infatti è niente è uno una penetrazione e zero danni va bene allora c'è il penso che ormai è una sfida personale contro il neptun la mia vediamo quanti colpi mi servono per tirare giù un cruiser del cavolo allora vediamo un po' sta andando pianissimo quindi forse così lo prendiamo abbiamo preso due overpenetrazioni di nuovo va bene va bene ok la missuri avversaria non ci ha fatto nulla e anche noi non le abbiamo fatto nulla va bene ma questa è una posizione un po' un po' un po' del cavolo per andare a fare male alla missuri vediamo se niente giù di pazzo vorrei cercare di buttare giù la missuri perché è un problema ragazzi perché è quella che ci minaccia di più è quella che ci può fare più male però a questo punto proviamo a ninjaare la missuri dai avrei dovuto fare sulla caroline però eh vabbè mi hanno fregato ci ho provato volevo ninjaare la kill ragazzi però vabbè allora caroline a questo punto cerchiamo di cerchiamo di farle male allora ci da un buon broadside noi chiudiamo adesso per evitare troppi danni il colpo non dovrebbe essere male lei ha sbagliato completamente vediamo un po' se riusciamo eh beh allora il colpo è caduto bene 10.000 danni ma non abbiamo fatto i danni sperati ecco oh di nuovo questo Neptune ragazzi mamma mia è invincibile questo Neptune allora vediamo di provare a chiuderlo siamo sotto al momento e questo non è un bene vediamo se riusciamo a chiudere questo maledetto Neptune e niente ragazzi andiamo a forza di mille danni a tiro è così oggi oggi il computer fa così ce ne andrà fatto va bene a questo punto ormai ragazzi il Neptune deve morire e quindi il Neptune deve assolutamente morire allora dove sei il maledetto vediamo un po' se riusciamo a battezzarlo così colpo sembra buono oh Deograzia Deograzia finalmente allora Delgross cerchiamo di alleggerirla un tantino dagli HP così diamo una mano alla Norca che ce l'ha di fronte 5000 danni cerchiamo di farle qualcosina in più oh c'è una Norca completamente arenata ah vabbè il tiro abbastanza buono contro la Delgross tanto se la riesce se la dovrebbe riuscire a fare senza problemi la la Norca questo cerchiamo di battezzare questa Norca che è completamente arenata vediamo se riusciamo a farle male se non è chiedere troppo colpi pieni niente vabbè è così peccato erano colpi pieni che sicuramente potevano essere interessanti ci siamo anche venuti un po' aprire alla reggiorgio qui però vabbè ragazzi così si spara e non c'è pieno bravo abbassiamo un po' il tiro cerchiamo di prenderla dovremmo prenderla no no niente ragazzi le cittadine penso che morirà di sidori sicuramente vabbè no e l'RNG ragazzi ultimamente ormai il saper parare non serve più a niente ormai dipende tutto dal computer se è in grazia di di Gesù altrimenti comunque non si ottengono risultati e quindi niente allora vediamo un po' se riusciamo intanto abbiamo 114 mila danni una kill niente di speciale fino adesso allora vediamo se riusciamo a fregare la re Giorgio V vediamo se riusciamo a battezzarla c'è anche un run peccato l'ho visto dopo cioè comunque con i bei danni sulla re Giorgio allora a questo punto cerchiamo di fare male a run eh siamo messi male eh ragazzi siamo messi un po' malino allora riusciamo a battezzare il run eh ha cambiato il time maledetto eh gli abbiamo fatto 9000 danni comunque nel nel torto è andata bene vediamo se riusciamo a salvarci per il rotto della cuffia intanto la cura ci potrebbe aiutare dobbiamo far curare subito l'incendio prima che sia troppo tardi eh sì perfetto allora vediamo se riusciamo eh niente purtroppo è indoggiata piena non è facile ragazzi colpire in questi casi in questi casi non è affatto facile e infatti è andati a vuoto eh vabbè ragazzi niente vediamo se riusciamo a tenere un incendio adesso ci sarebbe fatale ragazzi vabbè un buon tiro 8000 danni però vedete ragazzi tre penetrazioni quella dov'essere una cittadella una corazzata non si può più permettere il lusso di dover sparare 3-4 volte a un cruiser per fargli dei danni seri il problema è quello ragazzi allora a questo punto il rune è in allontanamento dedichiamoci alla regiorgio quinto vediamo vediamo se riusciamo a battezzarla beh è buono 15000 danni questi sono stati colpi pieni che hanno fatto veramente male qui ci siamo allora mi sa ragazzi che eh si ci stanno oh porca miseria meno male che mi sono accorto che cappavano e sono riuscito meno male ragazzi meno male è andata bene che ho visto che cappavano e ho rallentato se no ci facevano veramente fuori allora per fortuna l'altra cura forse ci salva ok allora ci stanno cappando abbiamo un radar proviamo a difendere il cappa a questo punto siamo arrivati già a 157.000 danni non male non male per essere la prima partita non male questa è una nave che mi piace devo essere sincero mi sta piacendo su questa partita non mi ha dato grandissime soddisfazioni dal punto di vista di danno però sicuramente è una nave che non mi dispiace 3 overpenetrazioni un confederate adesso aspettiamo che i cannoni si ricaricano per dare di radar intanto diamo di secondarie ho sbagliato ragazzi avrei dovuto aspettare qualche secondo in più per attivare il radar ma ho detto chi si è vediamo di fare male a questo cagero danni pieni 8.000 danni non c'è la zona killer il bastardo vabbè comunque sia abbiamo rifeso il capo questo è importante allora non ci ha sinurato siamo arrivati 170.000 danni penso che ormai la partita volga al termine in nostro favore siamo riusciti a fare la differenza e non male non male intanto che si che vanno avanti le ultime battute vi segnalo che sono arrivato primo con 2400 di esperienza partita a mio avviso ottima abbiamo avuto qualche difficoltà nel portare a casa i danni ma più dovuti secondo me a un RNG un po' avverso perché questa era una partita che si poteva chiudere anche forse a 200.000 danni non ci sono entrati un paio di colpi che secondo me di cittadelle che secondo me erano importanti comunque sia nave secondo me più che valida e ottima sono contento di essere riuscito a raggiungerla è stata dura sfruttando come vi dicevo tutte le bandierine possibili e immaginabili alla fine ce l'abbiamo fatta vabbè ragazzi io per oggi vi saluto mettete un bel mi piace aiutatemi a crescere come canale e ci vediamo la prossima volta ciao a tutti